Sono qui in rappresentanza del DTEC, il distretto tecnologico della regione Puglia, fondato nel 2005, che opera in creare nanotecnologie biomateriali e ICT. Abbiamo incontrato diversi partner qui in Cina, con alcuni dei quali già avevamo una tradizione di collaborazione, nuovi partner interessati a avere nuove collaborazioni, soprattutto sul discorso dei materiali per l'applicazione del settore biomedicale e per le nanotecnologie. Si è parlato della possibilità di sviluppare progetti per la realizzazione di nuovi trattamenti antibatterici con una particolare adesione al substrato, in modo che possano essere utilizzati in ambito biomedico, anche con il contatto con fluidi biologici, applicazioni nel settore delle terapie avanzate, della tissue engineering, rigenerazione di tessuti. Abbiamo presentato alcuni dei progetti che già con diverse imprese stiamo portando avanti e siamo speranzosi che ci possano essere possibili sviluppi di collaborazione nei vari settori in cui il distretto tecnologico opera.